Le strategie del terrorismo dietro i fatti di Parigi, le eco-mafie, il caso Pasolini, il processo Emilia, i beni confiscati, sono questi i temi al centro della undicesima edizione di Politicamente Scorretto che si terrà dal 20 novembre al 1 dicembre a Casalecchio di Grena. 20 appuntamenti, proiezioni, spettacoli teatrali, performance musicali, incontri, dibattiti e anche appuntamenti enogastronomici. Il tutto nel segno della promozione della cultura della legalità e dell'impegno civile. Il programma è online su www.politicamente scorretto.org.